Gio Bastianich, siamo alla sesta edizione di Masterchef, hai detto che sarà un po' diversa, ci sarà qualche novità no? Sì, ogni anno cambia la situazione, l'atmosfera tra di noi giudici e anche i concorrenti che portano diverse storie, diverse racconte allora dicevo, tanti giovani, tanta ambizione in cucina e tante risanne Il tuo ruolo è cambiato in questi anni? Ti sei di stato più buono oppure anzi col passare del tempo? Io penso, per essere un giudice di Masterchef, io cerco di avere un'evoluzione ogni anno allora ogni anno cambio un poco, così, quello è il mio impegno allora sto anno, non so, sicuramente ci siamo divertiti, forse sono più il psicologo della situazione Tu conosci anche l'edizione americana del format, che differenze ci sono? Cioè qual è la caratteristica che differenzia in particolare quella italiana? No, il format che conosco meglio, che lavoro io, quello americano e l'italiano la versione italiana è sicuramente un po' più racconto emozionale di amore per cucina, ambizione e il Masterchef americano è un po' più un spettacolo grande Sei un manager, diciamo, della ristorazione, in Italia manca un po' questa cultura a tuo avviso o no? Vabbè, la ristorazione in Italia è tutta un'altra cosa, è bella, più complicata, è completamente diverso E sei anche impegnato sul fronte della musica? La musica, sì, 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 domani sera, mercoledì, sogniamo a Ricci al 21, siete, vi aspetto Ciao, grazie